Il Consigliere ha la capacità di riuscire a trovare anche i miei regimi. Allora, semplicemente per avermi interessato, io non ho detto che i miei regimi non vanno stato nella presenza straordinaria, ho detto, ho chiesto venire al segretario e al dirigente se questi che per me erano legati a un'altra, come io credo che sia, cioè la determinazione dell'amico da lì e la rivoluzione dei modi di proprietà del comune, e il servizio nazi fondamentale del servizio nazionale che ci hanno avuto un bilancio a rispettone che si trovavamo a votare adesso. E perché avete votato, credosamente, un bilancio complesso di sindicato, qui è al suo posto, ovvio nel rispetto delle regole e delle città, un percorso obbligatorio. Non mi seguendo il regolamento dell'articolo 22, che sono statunzato l'articolo 22, quel regolamento quello che dice avanti. Ti dico, se questi abitanti sono le regolamenti, non mi seguendo il regolamento, non mi seguendo il regolamento. Ha risposto le regolamenti, ha risposto il dirigente, mi avete risposto molti più di consigli con tanta bellezza di parole, con tante belle parole articolate, quindi in grande senso. E quindi avete l'esempio che praticamente questi due abitanti fondamentali abitanti sono un bilancio, perché la norma non è il bilancio, perché non è il bilancio, perché non è il bilancio, perché non è il bilancio, è il bilancio, è il bilancio. E quindi avete definitivamente convocato questo consiglio comunale in questo età. In benissimo quello che diceva l'articolo 90, nel momento di comunità, di capitolo, abbiamo sollevato il servizio e abbiamo visto a prendere che le percezioni del giorno si saranno proprio in cui tutte le questioni che dovevano essere scritte. Valla sul servizio ordinario, qualche maggiore ordinario. Mi sono andato adesso, in questo caso, perché vedendo che questo caso va adattato in una questione ordinaria, non straordinaria, come quella di oggi. Scusa qua a questo. E' un piccolo della consigliere da tutto che ha fatto questa questione, di piedi, di ciclione, di riciclione. Io ancora una volta affermo con denezza questa volta, veramente, che il Consiglio Comunale sono l'unico rappresentante che si riuscì. E' con denezza di Pabinubo, mio giornale, dalle principali, ma dove te lo dico io? Perché lo dico, con le 23 persone che sono candidate a me di spalle e nei confronti in marco grave di un consigliere comunale si presupponeva a tutte le loro posizioni che viene a colare con voi il bilancio, che viene a colare con voi il rinunidio, che viene il suo posto di questa maggioranza, qualsiasi partito, come dice il mio ex, se volete, il partito mondiale, vuole che il suddetto consigliere, che compia un esigenio, sia annunzato il mio partito che rispetto delle regole e della politica lo ha sospeso, Poi che il Consigliere Cammuccio, il tuo Consigliere Stefano Ferrara, che tutti quanti non lo vogliate di conoscere, il Consigliere Cammuccio non è assurda, ma vuole lo so, ma sì? Allora, è stato trattato al Consigliere Cammuccio la prevenza del Consigliere Cavallo, il Capodumbo, e io mi trovo scelta che sono il Consiglio Comunale, perché da un momento che si prende la vostra, che è anche il valore, è stato portato, non dico che io mi trovo a rispondere a queste persone, bisogna fare bene le cose del pubblico, del giornale, e anche di voi, come si chiede. Oggi, io sono l'unica proprietà del Consigliere, ma non voglio dire, perché lo dico, le 23 persone che sono candidate dietro di me, io non accetto risposte di partito che non mi dica l'Udizio 1, l'Udizio 1, l'Udizio 9, io so, invece, 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 i dati del Consigliere Capano, tira a 30, 12, questo canto. Se tu gli chiedi che si possa accettare, che anche il centro della tua maggioranza, del tuo partito, possa andarti in consiglio comunale e fare qualcosa di diverso, rispetto a quello che dice la tenta, se tu vuoi fare qualcosa di diverso, come si è capitato che non ti costituo a lasciare la casa, al tuo gruppo, per cui tu vuoi fare qualcosa di diverso. ... ... ... ... ... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.